Quarto raduno nazionale a Ravenna dei Cacciatori delle Alpi, storico gruppo di camice rosse fondato da Giuseppe Garibaldi, che dopo aver deposto le corone di fiori sotto la lapide in piazza Garibaldi in memoria dei caduti, sono stati ricevuti nel palazzo governativo dal prefetto Bruno Corda. Successivamente il corteo ha raggiunto piazza nita Garibaldi per omaggiare nuovamente i combattenti caduti al servizio della patria. Infine, nella basilica di San Giovanni Evangelista si è celebrata la messa e nel pomeriggio il gruppo storico ha fatto visita al cappano Garibaldi. Federico Lega per Ravenna Web TV